Buongiorno a tutti Spero che lo sia un buongiorno Lei è Chiara, la mia coinquilina a Giramondo Lui è Marietto, il king del chilometro zero Io comunque mi chiamo Claudio, ho 25 anni e ho un livido sulla faccia Che cazzo hai fatto alla faccia? Ora devo andare Ah ecco, che devi salvare dai super cattivi oggi Oggi nessuno, aiuto un gruppo di persone A far che? Orti urbani, Chiaretta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti